Due casi di violenza domestica sono stati risolti nella fine settimana dai carabinieri della provincia di Potenza. Nel primo episodio una donna di 37 anni della Val d'Agri ha chiamato il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto. Dal secondo, un parente di una cittadina rumena di 39 anni, residente nella Valle del Bradano, ha allertato le forze dell'ordine dopo una telefonata preoccupante. L'intervento rapido dei carabinieri delle compagnie di Vigiano e Cerenza ha permesso di fermare i responsabili. Militari hanno trovato segni di violenza sui corpi delle donne che sono state subito affidate alle cure dei sanitari del 118. Dopo aver raccolto le testimonianze delle vittime, gli agenti hanno applicato le misure del protocollo Codice Rosso e arrestato i due uomini. Il 64enne italiano è stato condotto nella casa circondareale di Potenza, mentre il 37enne rumeno è stato posto agli arresti domiciliari. Entrambi gli arresti sono stati convalidati dalla GIP del Tribunale di Potenza, che ha disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari. Si ricorda che i due uomini sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva. Le due vicende, seppur distanti geograficamente, hanno trovato un comune denominatore nella richiesta di aiuto al numero unico di emergenza 112, permettendo alle vittime di porre fine alle violenze subite.